Mi sono commosso ed è vero, perché noi inaugurazioni ne faccio tante, inaugurazioni come questa è la prima volta che la faccio, poi mi creda, la location, il tema è stato bellissimo, io l'ho detto ai suoi colleghi prima, io credo che più che essere ringraziati noi ringraziamo per partecipare a queste cose ed è bellissimo, ed è bellissimo. 3.0, mano per mano con la cultura, cultura aperta a tutti, bellissimo mi credo, ecco perché mi sono emozionato prima, noi facciamo grandi battaglie, abbiamo fatto la battaglia sui farmaci, abbiamo fatto la battaglia sull'acqua, abbiamo fatto la battaglia sul latte, facciamo le filiere nei territori e come si fa a non aiutare la cultura? La cultura è vita e quindi la crescita di una grande azienda passa proprio attraverso la cultura.